Bella a tutti ragazzi, bentornati in questo video di oggi, stiamo in un nuovo reaction di Terna Nago Senza, Libro Liberati E niente, ecco, come vedete ho messo la maglietta, dato che oggi è piovuto qui a Terni Ed è un po' freschetto, è un po' freddo E quindi niente, ci vediamo una volta quando siamo lì allo stadio Bella Come vi ho detto ragazzi, eccoci qua Stiamo incamminandoci per andare verso il nostro settore E ci vediamo una volta quando siamo arrivati là Bella Ragazzi siamo arrivati Stiamo andando a fare controllo nei tornelli Nel frattempo là abbiamo i due bullman Quello nero è tra le mani E il bianco per mettere la squadra così Quindi ci vediamo quando siamo dentro Bella E qui ragazzi, siamo dentro E accompagna una famiglia fermana di sette complimenti E vediamo quando mi avresti posto Bella Bella Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti di Ozzieri, Alvar Livio Marinelli di Tivoli, Alvar Marco Scarragli di Arezzo, Cosenza, 21 Cristian Matosevic, 4 Bresciani, 5 Rigione, 9 Larrivey, 10 Durso, 11 Brignola, 14 Panico, 15 Paisanen, 27 Martino, 34 Florenzi, 42 Voca, a disposizione di Mister Dionigi, 77 Marson, 8 Calò, 13 Meroni, 18 Merola, 21 Vallocchia, 23 Venturi, 25 Tozzi, 28 Sidibe, 32 Butic, 40 Zilli, 48 Arioli, 67 Cristianni, dal 1925 un amore, una passione, una fede, queste sono le fede. Numero 1 Anthony Iannarilli, numero 4 Frederick Sorensen, numero 5 Antonio Palumbo, numero 14 Francesco Di Tacchio, numero 17 Andrea Favilli, numero 19 Marco Capuano, numero 21 Anthony Partipilo, numero 25 Marino Defendi, numero 29 Francesco Cassata, numero 34 Davide Agazzi, numero numero 91 Niccolò Corrado, a disposizione di Mister Lucarelli, numero 12 Crapicas, numero 2 Coulibaly, numero 8 Proietti, numero 9 Donnarumma, numero 10 Falletti, numero 13 Mantovani, numero 16 Rovaglia, numero 18 Moro, numero 20 Paghera, numero 23 Diachite, numero 24 Ghiringhelli, numero numero 26 Bogdan, forza, non abbiamo un Lucarelli perché ha preso rosso nella partita emozione della Ternana, forza, 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 Giorgia, allez! è piena senza affatto spero grazie Scusi, se fosse un'altra burga, se fosse un'altra burga. Buongiorno. 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 Chi cazzo lo vede tutti? Bella 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 bella. Buongiorno. Scappa, poi ci pensa, poi scappa, paghiamala sta cazzo di palla. Fatte un giardino, però io non ho capito di che fai Matocevic, pallone che è arrivato vicino al palo, alla destra del portiere Una piccola respinta sul legno e poi la tenuta all'estremo difensore Parti Pilo, il tocco per Favilli, Favilli, Favilli Il numero 17, Andrea Favilli Andrea Favilli Andrea Favilli Andrea Favilli Forza Parigi, è vicino al paletto Andrea Favilli Andrea Favilli Andrea Favilli Andrea Favilli Grazie a tutti 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 Abbiamo finito appena adesso la partita